buonasera a tutti questo oggi qui con mister salvatore lia del salice primo giorno di preparazione per la vostra squadra ti chiedo sensazioni su questa ripartenza tra l'altro in programma anche alcune amichevoli che vedranno tra tra le protagoniste nel fossanese e diciamo che dalla prima sera si vede già tanta voglia tanta c'è tanta voglia di fare ecco tanto entusiasmo e noi dobbiamo essere bravi a tenerlo fino fino alla fine abbiamo rinforzato la rosa con parecchi innesti abbiamo cambiato un po di staff perché preparatore atletico è nuovo preparato dei portieri anche nuovo chiamo a fare fare bene tra l'altro sarà una stagione che potrebbe vedervi tra tra i protagonisti in in seconda ti chiedo quale può essere obiettivo della società e se ce n'è uno invece tuo particolare personale ma allora l'obiettivo è quello di fare bene ecco cercare di vincere più partite possibile però sappiamo che è dura perché ci saranno almeno sette squadre che hanno la stessa nostra ambizione di di fare bene di vincere di vincere più partite possibile quindi è veramente dura quest'anno ti chiedo ancora questo ci sono stati tanti conferme tanti innesti invece con anche con alcuni giovani delle vostre giovanilli ti chiedo come ti sembra questa squadra almeno sulla carta perché ovviamente poi sul campo dovrai vederli man mano in questa preparazione sulla carta è una buona squadra perché abbiamo preso abbiamo preso giocatori di categoria che hanno fatto categoria superiore è vero che arrivano da comunque da stagioni un po difficile perché alcuni sono stati infortunati alcuni hanno vissuto una stagione un po particolare ecco con risultati non a loro favore quindi devono essere bravi loro a calarsi in questa realtà della seconda categoria e mettersi a disposizione e darci una mano perché li abbiamo preso per quello grazie mille mister a voi